Domenico Ruggeri allora gol però non è stata facilissima la partita Domenico dopo la tua realizzazione comunque l'incendit ha tenuto testa ha tenuto palla soprattutto all'inizio del secondo tempo poi per fortuna il buon finale ha permesso questa vittoria sì sinceramente all'inizio abbiamo fatto un po fatica si faceva fatica a segnare perché gli spazi erano pochi quindi abbiamo non sofferto però ce la siamo giocato con tutte e due le squadre però abbiamo trovato il gol e poi abbiamo trovato anche il secondo gol con Salerno e poi è stato tutto in discesa. Che squadra hai trovato Domenico tu che sei arrivato da qualche settimana e non si avevano dubbi sul fatto che potessi cambiare la stagione del San Marco? Ho trovato una squadra molto preparata piena di giorni pieni di giocatori esperti come mi aspettavo è una squadra che vuole fare sempre di più con con ottimi obiettivi e mi è piaciuto tutto mi è piaciuto l'ambiente i tifosi tutto. Quarto risultato utile consecutivo salvezza sempre più alla portata secondo te rimane questo l'obiettivo di questo San Marco Domenico? La salvezza prima di tutto poi noi ce la mettiamo tutta come tutte le partite e facciamo sempre il massimo per ogni partita. Che ti aspetti da questa eccellenza? Qualcuno ti vuole vedere ancora più in alto. Io ce la metto sempre tutta cerco di fare sempre il massimo ogni partita e provo a segnare sempre di più e poi a fine anno si si vedrà. Grazie. Ciao.